bene 2.26.49 ti dico io quando eh ora bravissimo la porti dentro ok vai 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 giù 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 tieniti a sinistra ora bene dopo freniamo un po' più avanti ti dico io eh la facciamo bella da giù ora va bene va bene va bene scala tranquillo tranquillo aspetta va bene così bravo perfetto va benissimo vai ti dico io quando ora bravo lascia così perfetto bravo va bene scala ok vai va bene così va bene così mi preoccupare vai 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 ok scala va benissimo eh vai si si stai abbassando ancora di più vai tieniti a destra frenala scala aspetta a dare gas eh ok dolcemente vai addrizza e subito gas vai giù tutto cambia frenala poco gira mantieni tu sul cordolo bravo così dolcemente gas dolcemente perfetto vai benissimo vai giù tutto stessa cosa qua e non frenala troppo vai frenala ora scala lasciala scorrere bravo così bravo così tu e metti ti dico io quando eh ora